Solo vergogna ragazzi, una prestazione oscena, vergognosa, indecente, un buon ragazzo che ci ha messo i piedi sulla testa meritava di fare 2-3 gol, meritava di fare 2-3-0, non abbiamo fatto un cazzo, una prestazione orripilante, in zaghi ti devi dare una svegliata perché ragazzi te li mandi, io ti ho sempre difeso, basta, mi hai rotto i coglioni anche te, vai via se devi allenare così, personalità zero, ha avuto più personalità Raimondo e Carboni 2004-2005 di tutti i nostri giocatori del cazzo messo insieme, del nostro inter di merda, guarda che cazzo di roba, ma madonna, guarda che personalità, che personalità del cazzo, tipo surclassati sul piano del gioco, sul piano fisico, sul piano mentale, dalla squadra di Tiago Motto che gioca a pallone, dalla squadra di Tiago Motto che gioca a calcio, altro che noi, altro che noi, ragazzi vanno diventati dopo 10 minuti annullati per grazia divina perché c'era domingas in metallazione sul destro di Barro, poi ragazzi vanno attraverso la Clamosa con Soriano, vogliamo andare avanti, vogliamo andare avanti, con tanti altri tiri, orsolini, così cos'ha, con Onana che è riuscito in qualche modo a tenere sulla baracca, poi ragazzi non abbiamo fatto niente nel primo tempo, assolutamente niente, Brozovic, che cazzo giochi a farci devi giocare così, Brozovic, ragazzi, lento e compasciato, macchinoso, lezioso, un Brozovic così ragazzi mi dispiace ma non può giocare non può giocare titolare nell'Inter, in queste condizioni qui, non può giocare titolare in queste condizioni qui, perché ragazzi non gira, non va, non corre, non fa un cazzo, Mkhitaryan c'è la Noglu, ci sta ragazzi, sono cotti, gioca sempre loro, Barriera, come cazzo fai tenere fuori Barriera? Non c'hai mica il turno di Champions la passione settimana, ma che cazzo fai? Zainzac, tutto il turnove, ma che cazzo è? Lukaku, tutto a criticarlo, ha infatti il migliore in campo, ragazzi, lì davanti ti ha tenuto un sacco di palloni, qualche sponda sbagliato, ok, ma ti ha tenuto un sacco di palloni, al contrario di Lautaro che ha giocato malissimo quest'oggi, non ha tenuto un pallone, molto nervoso, tanti tiri anche sbagliati, comunque da dentro l'area, malissimo Lautaro, Lukaku, tutto l'unico che ha fatto bene, a parte qualche sponda sbagliato, ha giocato ampiamente sufficiente, gli altri malissimi, Gosens, Gosens molto bene, secondo tempo di cattiveria, di aggressività, questo Gosens è quello che conoscevamo all'Atalanta, in un'altra occasione sono tutte le ripete di Gosens, la prima ragazza ti mette un cross bello per Lukaku che tira male, il secondo ruba palla molto bene, passa a Cialanoglu, ragazzi, a porta, c'è un altro giocatore del buone davanti alla porta, ma a porta a vuoto, il portiere ragazzi è riuscito malissimo, Skorupski, tira in cura, non puoi tirare in cura, almeno becca la porta, becca la cazzo di porta, cioè non abbiamo fatto una cosa pericolosa, a parte col tiro, in porta due tiri, uno poi sul cross di Acerbi, Lukaku e Dzeko, facilmente ha parlato da Skorupski, poi continuano di votare alla fine, è andato di fuori di poco, poi ragazzi il Bologna è andato avanti, ha provato prima con due errori passi in difesa, prima di Acerbi, no prima di bastoni, che fa lanciare Domingas in controbiere Barro, che ragazzi tira malissimo, Barro ha giocato bene, però ragazzi si sottoporta male, ci ha grassiato due o tre volte, poi ragazzi alla fine no, dopo due minuti, altre errori, questa volta di Acerbi che passa un po' loro in vino orizzontale, sanguinoso, lo recupera Domingas che dà un pallone delizioso a Roussolini che fa uno stop incredibile, è on fire a Roussolini, in questo momento gli riesce tutto, in qualsiasi modo, Matteo parla molto bene per col sinistro, ragazzi, trafigge Unana che ovviamente non poteva far nulla, poi ragazzi a scegliere finale imbarazzante, ha detto Carboni è entrato, ma perché poi la personalità di merda di Zaghi, metti tre punte, lascia Lukaku, Geklautaro, non togliermi Lukaku che è il migliore in campo, ma ci abbia un po' di personalità, è una pippa questa lena autore, zero personalità, butta dentro tre attaccanti, che paura c'hai, la devi vincere, non la devi neanche pareggiare, la devi vincere, la perdi addirittura, La perdi, ma vergognati, Dio Bo, Carboni è entrato, Dio Bo è stato quello che ha messo più personalità, più aggressività, aveva la voglia, ultimi quarto d'ora indecente, in cui lui ha rischiato più volte di fare anche il secondo gol, non ci siamo andati vicini per niente al gol, sconfitta, strameritata, dove io non ho mai visto una possibilità di provare ad andare al gol, male, 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 non ci siamo, bisogna sicuramente ripartire, perché qui è veramente un disastro, si scacca la Champions qui, quindi ragazzi, occhio a Zaghi, dati una svegliata, perché veramente sei indecente, Onore al Bologna, ragazzi, questo mezzo c'è stata mezz'ora a Conference, è merito di andare in Conference, perché sta giocando un calcio spettacolare con Tiago Motta, che anche la nostra sorpresa l'ha fatto molto bene Per questo ragazzi è il mio risultato, diciamo che cosa è per il prossimo video